Sì, vai, accende. Vieni qua ad entrare alla Cassa delle Sarde, per favore. Sì, vai, accende. Sì, vai, accende. Sì, vai, accende. Ci sbrigiamo? Sì, in diretta. Sì. 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 Grazie 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 Vai o destra Ecco Ecco Grazie 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 si è bloccato, si è stancato guarda come il mobile a tutti i pollini quindi siamo iniziali questo è il nostro paio